difficoltà di smaltimento se compro sacchietto di wuster il sacchietto vuoto in casa per quanti giorni dovrò averlo prima di smaltirlo nella plastica e così via quanta nuova disoccupazione si ricrea nella divisione dei rifiuti e malodori diversi in casa e sacrifici nella raccolta differenziata con gente cosciente a differenziare i loro acquisti quando prima con semplice contenitore unico operatore qualificato si smistava con semplicità i rifiuti nella raccolta senza incontri per la città il metodo migliore è lasciare all'aperto il rifiuto per poi rimuovere loro con semplicità e traffico assurdo la semplicità dà un tocco di gas alla venta pieno di spazio vedici Pietro Paolo Quarta poeta naif salentino per l'idea per l'idea per l'idea grazie a tutti 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 Quanta nuova disoccupazione si ricrea nella divisione dei rifiuti e mali odori riversi in casa e sacrifici nella raccolta differenziata, con gente costretta a differenziare i loro acquisti, quando prima con semplice contenitore unico e operatore qualificato si smistava con semplicità i rifiuti nella raccolta senza ingombi per la città. Un metodo migliore è lasciare l'aperto il rifiuto e poi rimuovere la vostra semplicità e traffico assurdo. La serenità dà un tocco di classe alla mente. Piero Respazzino, 13 Pietro Paolo Quarta, poeta naif salentino, con diarità